Guadalupe è un tecnico che ha dato ampie garanzie a noi, essendo lui di un trascorso anche in A1, anche all'estero, quindi per cui insieme a lui abbiamo costruito una squadra che ci darà grande soddisfazione per l'anno prossimo, sicuramente. I nomi sono top secret, non divulghiamo ancora queste cose, però la squadra diciamo che bene o male è quasi pronta, manca soltanto qualche elemento che crediamo di chiudere a breve. Tutto il roster è stato cambiato in tutte le sue unità, 12 ragazze nuove, quindi per cui è un percorso che iniziamo nuovo in tutti i sensi, il nostro inizio avrà penso dopo il 20 agosto e il nostro centro di raccolta, possiamo usare questo termine, sarà il Palapossilo anche per quest'anno. Una squadra che sicuramente ci darà delle soddisfazioni rispetto all'anno scorso, vorremmo migliorare la nostra posizione e poi ricordare che siamo l'unica realtà della provincia di Salerno e della Basilicata a rappresentare la A2.